Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali di Per Sempre News. Iniziamo il notiziario di oggi con le parole della Premier Giorgia Meloni dopo il bilaterale con il presidente della Tunisia. Sul tema della gestione della migrazione, voglio ancora una volta ringraziare le autorità tunisine e il presidente Sayed per un lavoro che cerchiamo di portare avanti insieme contro i trafficanti di esseri umani. Noi sappiamo che la Tunisia non può diventare il paese di arrivo dei migranti. Su questo va rafforzata la cooperazione, vogliamo coinvolgere le organizzazioni internazionali, lavorare sui rimpatri ma soprattutto sui flussi regolari. Giorgia Meloni ha poi continuato sull'impegno dell'Italia. Credo che si possa fare sul fronte di una migrazione legale molto di più da parte dell'Italia, ma è fondamentale che insieme lavoriamo per continuare a combattere gli schiavisti del terzo millennio, le organizzazioni della mafia che pensano di poter sfruttare legittime aspirazioni di chi vorrebbe una vita migliore per fare soldi facili. È un lavoro che con il presidente Sayed condividiamo e portiamo avanti insieme. Ma è un lavoro che necessita di sviluppo, investimenti e di tutto il lavoro che l'Italia porta avanti essendosi fatta promotrice a livello europeo. Passiamo ora alla morte del calciatore Mattia Gianni. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte del giovane calciatore del Castelfiorentino Mattia Gianni che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita, poi deceduto la mattina seguente all'ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati tuttavia si attende l'esito dell'autopsia, richiesta dal PM Giuseppe Ledda, che si terrà presumibilmente tra giovedì e venerdì. Chiudiamo il notiziario di oggi con l'alluvione a Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti si trovano ad affrontare quello che è stato definito dall'agenzia di stampa locale Wampun evento meteorologico storico. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla pioggia più intensa mai registrata nella storia degli Emirati. Per contrastare il clima prevalentemente arido della nazione il governo utilizza la tecnica di semina delle nuvole. Questa tecnica consiste nell'inviare aerei specializzati nei pressi di formazione nuvolose e disperdere particelle di sale per accelerare la condensazione e indurre più velocemente la pioggia. Tuttavia, vista l'ultima precipitazione, i cittadini si chiedono se questa tecnica abbia influito sui danni causati dalla pioggia stessa. Infatti, i sistemi di drenaggio di Dubai non hanno funzionato bene e ora la città si trova a fare la conta dei danni. Veicoli sommersi e strade diventate veri e propri fiumi, case allagate e cittadini costretti a lasciare le proprie abitazioni in cerca di rifugio. L'aeroporto internazionale di Dubai è quello che ha subito più danni impedendo arrivi e partenze e cancellando centinaia di voli. Questa vicenda ha sollevato dubbi e polemiche sull'efficacia della semina delle nuvole come metodo per aumentare le precipitazioni ed ora i cittadini attendono risposte da parte del governo emirato. Queste erano le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà domani, sempre sui canali di Per Sempre News. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.